Musica Filippo tu come tanti altri qui presenti sei un maestro, un operatore della scuola ma la scuola è di nuovo costretta oggi in presidio sotto al ministero della pubblica istruzione questo programma Renzi è pieno di parole però ci sono dei problemi reali che voi state qui a testimoniare Sì direi che è pieno di parole perché alla fine tutti questi slogan che Renzi sta lanciando su altre situazioni con la scuola veramente ha toccato un po' il fondo perché parlare di scuola e di grandezza della scuola italiana oggi è veramente un non-sense noi siamo stati una scuola di caratura mondiale, internazionale invidiata da tutti fino a qualche anno fa prima che poi questi governi uno dopo l'altro e gli ultimi quattro negli ultimi tre anni perché non scordiamoci siamo passati da Berlusconi a Monti a Letta a Renzi adesso sulla scuola hanno investito pochissimo oltre ad investire pochissimo hanno fatto dei lanci pubblicitari, le lavagne, le lim, il registro elettronico, la pulizia delle scuole ma in realtà una grossa riduzione del personale, un abbandono delle biblioteche scolastiche, un abbandono dei laboratori un accorpamento delle classi con grandissima numerosità all'interno di classi pollaio cosiddette e soprattutto una mancanza di obiettivi cioè noi siamo una scuola che non ha un programma oggi come oggi non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare io come ex insegnante ero un maestro in realtà, un maestro di scuola d'infanzia avevo una scuola all'avanguardia, fin quando sono stato a scuola la nostra scuola era all'avanguardia perché funzionava, avevamo dei programmi, dei buonissimi programmi non c'è stato più seguito, nel tempo la scuola è stata lasciata andare si sono dimenticati di categorie poi che sono rimaste a galleggiare noi in idonei per esempio che avevamo cura delle biblioteche e dei laboratori scolastici quota 96 che per un errore di anno scolastico e anno solare rischiano di non andare in pensione anzi non andranno in pensione con il loro trattamento giusto ma dovranno aspettare anni i modelli viventi, abbiamo intercettato anche i modelli viventi che sono le figure che fanno da modelli all'interno degli istituti d'arte, d'artistici e sono fuori contratto o addirittura gli ATA, i precari ATA dei quali noi di idonei dovevamo prendere il posto al posto loro avrebbero assunto noi, noi saremmo stati deglassati e loro che erano precari non sarebbero mai entrati in ruolo la battaglia congiunta però da tre anni a questa parte questo è iniziato il terzo anno quindi siamo quasi a tre anni e mezzo questa sarà almeno la venticinquesima volta che in tre anni siamo qua ha prodotto dei risultati perché per il momento siamo riusciti a bloccare la legge, il decreto, le norme attuative alcuni precari, diversi precari sono entrati quindi i posti che avevano congelato per noi sono stati scongelati e loro sono entrati i precari ATA hanno dato un forte contributo e oggi ecco quota 96 finalmente si è svegliata anche quota 96 perché qui gli insegnanti purtroppo la scuola si sveglia solo quando tocchi i propri diritti stretti, stretti, stretti e i quota 96 fortunatamente che sono arrivati a tantissimo ormai a 100, 102, 105, oggi ho sentito un 105 pazzesco siamo finalmente riusciti a compattarci e se noi ci compattiamo sicuramente metteremo dei bastoni delle ruote a questo governo che è veramente il governo degli slogan sembra una cosa di così che si faceva un lancio da autobus quasi ragazzi facciamo questo o facciamo quello e non è giusto noi è l'ennesima volta che siamo qui ma non credo che demorderemo anche perché finalmente ci siamo compattati e l'appuntamento è per lo sciopero del 10 ottobre tutti quanti insieme tutti quanti insieme